Subito chiedere, tu ad esempio, se fossi cittadino di Francia, per il ballottaggio daresti il tuo consenso a questo fronte anti-lepenista oppure che cosa faresti? Facci prima un'analisi, se vuoi, della situazione. Allora, l'analisi che è una partita tesa, non è affatto detto che vinca la Le Pen. I giornali non so se per scaramanzia o per altri motivi danno tutti un risultato scontato, mentre il risultato non è affatto scontato. È possibile ovviamente che vinca il Rassemblement, ma non voglio evitare la tua domanda. Se io fossi cittadino francese, voterei probabilmente per il fronte anti-lepenista, perché è la mia tradizione, il mio voto sia in Italia, lo darei uguale in Francia. E soprattutto molto volentieri lo darei in Inghilterra, dopo domani, dove corrono i laboristi di Starmer, che a differenza di quelli di Corbyn, sono dei laboristi moderni e non sono venati o sospettati di punte di antisemitismo. Il che mi obbliga a una precisazione rispetto alla domanda, che prima di votare per il fronte anti-lepenista, vedrei chi è il candidato che si presenta nel mio collegio. E se per caso fosse un candidato di Francia Assumise, senza alcun dubbio mi asterrei, non andrei a votare. Perché Francia Assumise è una formazione politica che rispetto, che gode di una meritata fortuna, perché ha corretto alcuni errori della sinistra precedente, che era diventata troppo burocratica. Però alla manifestazione antisemita, che è stata la più grande manifestazione, forse unica in Europa, di quella di missione, Marine Le Pen si è presentata, François Hollande si è presentato, tutti gli ex Presidenti del Consiglio si sono presentati, ma Mélenchon non si è presentato, trovando delle scuse ai miei avviso resibili. In più, la sera delle elezioni si è presentato, una libera scelta, che fa di me, con un esponente palestinese, che è un esponente palestinese di primo piano, la quale aveva twittato pochi giorni prima, che Israele addestra dei cani per andare a stuprare le donne nei campi di detenzione. Ora, io sono per un dibattito libero e riconosco gli infiniti, sottolineo, infiniti torti di Israele. Però queste sono cose sleali, che non si fanno, inventare stupidaggini. E quindi dici, se ti trovassi in un collegio elettorale, la scelta è che non andresti al voto. Pier Ferdinando Casini, poco fa, ha fatto una battuta, secondo me, molto interessante, che dice, se l'alternativa alla Le Pen è il fronte popolare con tanto di foto dei neo eletti col pugno chiuso, siamo fritti. Consiglio ai deboli di cuore di allacciarsi le cinture di sicurezza. E allora, con questa battuta di Casini ti chiedo che cosa accadrà dopo domenica, dopo il voto del secondo turno francese. Cosa accadrà, Paolo Mieri? Beh, in caso di vittoria dei due fronti, le cose sono molto, molto diverse. Perché se vince il fronte lepenista, si fa un governo Bardellà, perché quello è compatto. Se vince quel fritto misto, che è la parte per cui io voterei, eccezione fatta per il caso di cui ti ho detto, lì bisognerà trovare uno che li metta d'accordo tutti, ovviamente fuori dai partiti, una sorta di Mario Draghi francese, ma neanche, perché poi quelli di France Assumese diranno che Mario Draghi è troppo succube, direbbero. Io ho proposto Enrico Letta, perché Enrico Letta è quasi francese, però anche lui secondo me per France Assumese è troppo atlantico. E quindi rinunciamo a prestare noi un esponente politico, ma dovremmo trovare una figura istituzionale, insomma qualcuno che sia in grado di rappresentare una coda che va dai repubblicani, cioè i gollisti che stanno fuori dalla coalizione, fino all'estrema sinistra. E quindi una di quelle imprese disperate. E non so se questo per la sinistra sia un bene, perché tre anni di governo così rischiano che la prossima volta il voto per, fanno correre il rischio, che la prossima volta il voto per la Repensi è davvero a palanga, cioè che arrivi a 60-70%, perché te lo puoi immaginare che è un paese diretto da forze centrifughe. Quindi il governo lepinista sarebbe un governo centripeto, il governo antilepinista sarebbe un governo centrifugo. Bellissimo, bella immagine. Allora, non so se...